Dopo la tranquilla salvezza ottenuta nello scorso campionato di eccellenza, in casa Giarra Calcio è un momento di attesa, sia per quanto riguarda il calciomercato che le strategie societarie. Il presidente Di Martino però ha già stabilito che entro fine mese ci saranno novità importanti riguardo il futuro della squadra. Il patron giallo-blu, evidenziata le difficoltà nella gestione del club, ha infatti deciso che nel caso in cui non avvenisse il paventato allargamento societario di cui si parla già da qualche tempo, sarebbe disposto a passare la mano. Questo, precise Di Martino, solo a patto che il titolo sportivo rimanga a Giarra e che la società sia gestita da persone del luogo. Il presidente ripetisce infatti come sia quasi impossibile continuare a far crescere la società senza il supporto di nuovi soci. Il Giarra deve pensare in grande, puntare almeno ai play-off, ma andare avanti da soli è diventato troppo difficile. Se nessuno interessato si palesasse a investire sulla società, la strategia dell'attuale proprietà sarebbe improntata all'allestimento di una squadra formata da giovanissimi, facendo così un campionato poco dispendioso. Da un punto di vista tecnico, Di Martino conferma sia l'allenatore Mancuso che il preparatore dei portieri Mauro Manganaro. In caso di offerta irrinunciabile per l'attuale mister da squadre di categoria superiore, il presidente virerebbe su un allenatore emergente, quale ad esempio potrebbe essere l'ex giocatore giallo-blu Luca Di Gregorio.